Su due ruote per aiutare le persone bisognose di cura medica e sostegno fisico è la staffetta del cuore che ieri ha fatto tappa a Chieti dove in piazza San Giustino è risuonato il rombo dei motori Ducati. Nonostante la pioggia i centauri si sono ritrovati per portare avanti la staffetta nel nome di un grande pilota italiano prematuramente scomparso, Marco Simoncelli. È una raccolta fondi che ormai è partita dagli inizi di aprile, ha girato tutte le regioni d'Italia fino ad arrivare qui in Abruzzo. Dall'Abruzzo ripartirà per le Marche, lo consegneremo noi personalmente. Dalle Marche arriverà in Emilia dove terminerà il tutto. Poi verrà consegnato il 3 luglio davanti alla pista di Misano alle ore 15, un assegno grande simbolico di tutto quello che abbiamo raccolto direttamente al papà di Marco Simoncelli a Misano. E questo giubbetto verrà messo davanti al museo, davanti alla fondazione. Ci sono le firme di tutti gli staffettisti d'Italia, di tutti i motoclub che hanno partecipato, che sono oltre 150-160 motoclub in tutta Italia. Prima della ripartenza verso Ascoli, tappa successiva della staffetta, i motociclisti hanno ricevuto la benedizione all'interno della cripta della cattedrale di San Giustino, poi di nuovo in sella sfidando anche la pioggia. Grazie.